Ciao a tutti ragazzi, oggi vi ho portato con me a Udine, sono qui per scattare alcune foto per partecipare a un concorso fotografico, quindi non potevo perdere l'occasione per farvi un po' vedere alcuni posti di questa città dove io ho fatto tra l'altro anche l'università. Il primo è in questo momento dietro di me, questa cupolona qua dietro che è il Tempio Sario, adesso vi porto a fare comunque un giro, godetevelo! Grazie! 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 E con alle spalle il castello che è l'ultimo posto che visiterò per oggi, io vi saluto, spero che abbiate potuto trovare interessante questo mio video dall'Udine. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che in descrizione trovate i link per tutti i miei social, dove vi metterò anche le foto che ho scattato durante la giornata, man mano, un pochino alla volta, non tutte insieme. E vi ricordo anche che se vi è piaciuto potete mettere un like, potete condividerlo con i vostri amici e potete magari anche lasciarmi un commento se avete qualche curiosità in più su Udine. Io vi saluto e vi dico, have a nice life! Grazie a tutti!